Ciao e benvenuto e bentornato sul canale Statica Facile. In questa lezione andremo a particolarizzare le equazioni indefinite di equilibrio alle travi piane ad asse rettilineo, ma caricate in direzione ortogonale al proprio asse. Però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, digitando il tasto iscriviti ovviamente, e se vuoi essere informato delle prossime lezioni, attiva anche la campanella. Ma adesso via col titolo. Come vi dicevo, in questa lezione procederemo a questa ulteriore particolarizzazione, cioè equazioni indefinite di equilibrio applicate alle travi piane ad asse rettilineo, caricate ortogonalmente al proprio asse. In più, nella seconda parte della lezione, cominceremo a esaminare le funzioni carico distribuito, come si esprimono. In questa lezione esamineremo il primo carico distribuito, il più comune, quello uniforme, cioè quello costante, ovvero quello rappresentabile con una retta orizzontale. E adesso, buona lezione! Iniziamo col comprendere bene cosa sia una trave piana ad asse rettilineo. Quindi, come vedete nella grafica in 3D, si tratta di un parallelepipedo, in cui abbiamo una sezione iniziale A e una sezione finale B. L'asse della trave è definito come quella linea che congiunge i baricentri di tutte le successive sezioni della trave. All'ascissa Z troviamo la sezione generica K, ascissa che ha la sua origine nella prima sezione della trave, che è la sezione A. Potrebbe essere, per esempio, una trave in calcestruzzo armato, con le misure che vedete in figura. Quindi, sezione di 40x70 e luce di 6 metri. Al momento non è necessario evidenziare i vincoli, quindi si tratta sostanzialmente di un solido, di un parallelepipedo. Ecco, questa è la trave. Aggiungo che i carichi di ogni tipo, attivi e vincolari, agiscono sul piano verticale che contiene l'asse della trave. E allora sarebbero disposti così. Ma adesso guardiamo la trave lateralmente. Avremo a sinistra la sezione A e a destra la sezione B. All'ascissa Z avremo la sezione K, che è quella generica. Chiariamo subito che nell'ambito di questa trattazione la trave non sarà caricata con carichi momento distribuiti. Esaminiamo adesso gli altri tipi di carico. Il carico P1 è un esempio di carico distribuito lineare crescente, mentre il carico P2 è un carico distribuito lineare costante. Il carico P3 è un carico distribuito con legge generica in funzione dell'ascissa Z. Per esempio, potrebbe essere un andamento parabolico. I carichi F1 ed F2 sono carichi concentrati esterni, mentre M1 è un momento esterno concentrato. F3 ed F4 sono due reazioni vincolari del tipo forza, quindi reazioni vincolari carichi concentrati reattivi. M2 è una reazione vincolare di tipo momento. A questo punto riconsideriamo le equazioni nella forma che avevamo dedotto per le travi ad asse rettilineo. e andiamo a introdurre le novità che riguardano le travi ad asse rettilineo con carichi ortogonali all'asse e assenza di carico momento distribuito. Applichiamo queste ipotesi al concio elementare. Non vi sono carichi di tipo Q, cioè paralleli all'asse, non vi sono carichi di tipo momento distribuito. Allora, le funzioni Q uguale a QZ ed M uguale ad MZ sono nulle, non ci sono. Andiamo allora a correggere di conseguenza le nostre equazioni. Intanto osserviamo che la prima equazione non ci sarà per il semplice fatto che non essendoci carichi paralleli all'asse della trave, quindi ortogonali alla sezione, non avremo sforzo normale. Quindi l'equazione numero 1 non ci sarà né ci sarà la funzione N di Z, ovvero la funzione sforzo normale. La seconda equazione di equilibrio alla traslazione verticale, in questo caso, ovvero in direzione ortogonale all'asse, rimarrà esattamente com'è. Nella terza equazione, quella di equilibrio alla rotazione, andremo a levare M per DZ è la funzione MZ perché abbiamo ipotizzato che non ci sono, ovvero abbiamo escluso la presenza di un momento carico distribuito funzione appunto di Z e quindi questo comporta che non c'è né MZ e né M per DZ. L'assetto finale delle nostre equazioni indefinite di equilibrio sarà questo. Queste sono le equazioni indefinite di equilibrio applicate a travi rettilinee caricate in direzione ortogonale all'asse e prive di carico momento distribuito, che poi è il caso più diffuso in assoluto nella pratica corrente. Alla fine vediamo cosa dicono queste equazioni. La prima equazione ci dice che la derivata prima della funzione taglio T di Z in DZ è uguale al carico distribuito P di Z. La seconda equazione ci dice che la funzione taglio T di Z è pari alla derivata prima MZ in DZ derivata prima della funzione momento flettente M di Z. Oppure la derivata prima della funzione momento flettente M di Z in DZ è pari alla funzione taglio T di Z. Dalle due equazioni indefinite di equilibrio consegue che la derivata seconda della funzione momento flettente MZ in DZ è uguale alla funzione carico P di Z. Dalla prima equazione consegue anche che la funzione taglio T di Z è uguale all'integrale del carico PZ in DZ. Così come dalla seconda equazione consegue che la funzione momento flettente MZ è uguale all'integrale di T di Z in DZ. Detto in parole povere la derivata del taglio è il carico la derivata del momento è il taglio la derivata seconda del momento è il carico l'integrale del carico è il taglio l'integrale del taglio è il momento. Ecco, questo per aiutare a ricordare a livello proprio mnemonico. Prendete nota di queste equazioni che ci serviranno in seguito. Nella prossima lezione studieremo in maniera più approfondita come sono fatte le funzioni carico P di Z. Per chiudere questa lezione studieremo il carico distribuito uniforme oppure costante. Ripartiamo dalla trave e sostituiamo alla trave il suo asse perché nella fase di studio delle sollecitazioni interne e ancora prima delle reazioni vincolari sappiamo che appunto alla trave può essere sostituito l'asse in quanto in questi studi non interviene nella forma della sezione della trave né tantomeno il materiale. Mettiamo un vincolo incastro alla sezione di sinistra e mettiamo un carrello nella posizione che vedete. Per quanto studiato nelle lezioni sui vincoli e sulle reazioni vincolari che vi posto qui in descrizione questo schema risulterebbe una volta iperstatico perché abbiamo una sola trave con tre gradi di libertà un incastro con tre gradi di vincolo e un carrello con un grado di vincolo quindi quattro gradi di vincolo e tre gradi di libertà. e allora ecco che la struttura è una volta iperstatica però non è questo che ci interessa al momento. In questa fase ci interessa incominciare a studiare la funzione carico. Per fare ciò è necessario istituire un sistema di riferimento. Questo sistema di riferimento avrà origine nell'estremità sinistra della trave e cioè nell'incastro e avrà l'ascissa coincidente con l'asse della trave e l'ordinata sarà l'asse perpendicolare e passante per l'origine. L'ordinata sarà appunto la funzione carico. Inseriamo delle misure che rendano più reale il nostro schema statico 6 metri di luce e 2 metri e 50 di sbalzo e introduciamo un carico distribuito uniforme esteso su tutta la trave che sia costante ed abbia un valore di 5 kN su metro. Occupiamoci innanzitutto della grafica con la quale viene rappresentato il carico distribuito. Quelle freccette che vedete non sono forse concentrate è soltanto un modo per indicare il carico distribuito. Non è il solo modo. Si potrebbe rappresentare così oppure così oppure ancora così. Quindi non importa come si rappresenta ma importano i due parametri importanti che sono l'estensione in questo caso sono 8 metri e 50 nonché l'intensità che è questa grandezza qui che vedete nella grafica. Ovviamente dobbiamo pensare di rappresentarla in scala per esempio in questo caso sono 5 kN su metro quindi questa misura sul foglio da disegno potrebbe essere 5 cm qualora per ogni centimetro avessimo 1 kN su metro. Se la facessimo di 2 cm e allora significa che avremmo assegnato a ciascun centimetro 2,5 kN su metro. Ecco questo è il concetto di scala carico. Il valore dell'intensità del carico quindi potrebbe essere anche correttamente letto qui a destra in corrispondenza della quotatura appena disegnata. Tuttavia è in valso l'uso di mettere il valore del carico esattamente lì dove lo vedete. Alla fine il carico distribuito uniforme si rappresenta come un rettangolo la cui base è l'estensione del carico e la cui altezza è l'intensità del carico ovvero il valore espresso in kN su metro. Ovviamente può essere espresso anche in altre unità di misura per esempio potremmo avere tonnellate fratto metro oppure chilogrammi fratto metro oppure newton fratto metro dipende dal problema che stiamo trattando. Ma in definitiva che significa 5 kN su metro? Significa che su ogni metro di quella trave insistono 5 kN. Ora la cosa importante da notare è che se volessimo il carico espresso in kN su centimetro il valore sarebbe 5 kN diviso 100 ovvero avremmo 0,05 kN su centimetro. Lo dico perché alcune volte è importante avere questo valore in kN su centimetro o newton su centimetro e in un metro ci vanno 100 centimetri. Adesso torniamo ad occuparci della funzione carico la funzione carico P di z è espressa in funzione dell'ascissa z che ha la sua origine nell'estremità sinistra della trave. Ora il nostro sistema di riferimento prevede z in ascissa e P valore del carico in ordinata. Come vedete il valore del carico P è costante con z quindi la funzione P di z è una retta orizzontale e quindi è esattamente l'equazione di una retta orizzontale in quel sistema di riferimento e ancora prima dell'origine e dopo la fine della trave la funzione non esiste quindi la funzione esiste soltanto dall'estremità sinistra di ascissa 0 all'estremità destra di ascissa 8 e 50 per cui questa funzione P di z retta costante esiste soltanto in quel campo di esistenza e cioè da 0 a 8 e 50 e allora il modo corretto per esprimere questa funzione carico in questo particolare schema statico è P di z uguale a 5 kN su un metro per z che va da 0 a 8 e 50 ovvero per z maggiore uguale a 0 e minore uguale a 8 e 50 consideriamo un secondo esempio con carico in campata di 3,5 kN su un metro e carico sullo sbalzo di 4,5 kN su un metro quindi come vedete il carico è costante è uniforme ma ha valore diverso dalla campata allo sbalzo in questo caso la funzione carico P di z dovrebbe essere scritta così P di z uguale a 3,5 kN su un metro per z maggiore uguale a 0 e minore uguale a 6 P di z uguale a 4,5 kN su un metro per z maggiore uguale a 6 e minore o uguale a 8 e 50 se i tratti di carico fossero 3 e cioè quelli che vedete in grafica la funzione carico P di z sarebbe espressa così alla fine si tratta sempre dell'equazione di una retta orizzontale che come sapete è uguale a una costante che poi è il valore del carico nella prossima lezione vedremo altre funzioni carico distribuito e anche questa è fatta quindi vi do appuntamento alla prossima lezione nella quale andremo ad approfondire altre funzioni carico distribuito tipo il carico distribuito lineare crescente oppure decrescente oppure con altra funzione di carico per esempio la funzione di carico parabolica ovviamente se la lezione ti è piaciuta lascia il tuo like che è di grande aiuto al canale ti ricordo ancora una volta di iscriverti a Statica Facile digitando il tasto iscriviti e attiva la campanella se vuoi essere informato delle prossime lezioni e quindi non mi resta che salutare e dare appuntamento appunto alla prossima 2 5 7 2 5 7 1 2 3 4 5 6 11 12 12 13 12 13 14 14